Qui, Pierre Gasly, rettilineo e una curva, si sposta per non darti l'ultima scia, rettilineo e una curva, una curva adesso, la parabolica, la storia per Pierre Gasly e oggi, incredibilmente, con l'Alfa Tauri, Pierre Gasly vince il Gran Premio d'Italia, la lavorosa impresa di Pierre Gasly, che vince il suo primo Gran Premio della storia, in Formula 1, davanti a Carlos Sainzio McLaren, davanti alla Racing Point di Stroll, gara pazza, pazzesca la vittoria di Pierre Gasly, incredibile, festa grande a Faenza, è il momento, è il momento, dopo 12 anni in questo team, si chiama un altro modo, guarda vincere in Formula 1, e qui, non fanno festa dovrebbero, dai un podio, lo fanno i meccanici. E' mancato un giro, se c'era un giro più, penso lo passava, o si toccavano, non so, alla fine del rettilineo, curva 1, ma hanno guidato tutti e due, super, sono stato veramente super, ma mi sono passato, o con, nell'ultimo, l'ultima curva, l'ultima curva, mamma mia. Grande Italia, Alfa Tauri vince, il Gran Premio d'Italia, Sainz secondo. E' arrabbiatissimo, e terzo, Stroll, piange forse, piange, piange, persa un'occasione, ma un podio, ci saranno occasioni, sperando che la rossa non sia quella di quest'anno. E' arrabbiatissimo, perché ha fatto tutto perfetto, Sainz, ha fatto tutto perfetto. Grande Italia, vince Alfa Tauri, spot e go, e torniamo!